Grazie Presidente, scusateci ma eravamo in commissione difesa per questioni legate agli ONG. TDL concorrenza, nuova fiducia, l'abbiamo detto negli interventi precedenti, un provvedimento che ha un po' l'idea di sistemare un po' di comparti, un po' di attività dei nostri cittadini, pensa di stare un po' dalla parte dei consumatori, un po' dalla parte dei produttori, dei fornitori di servizi. È probabilmente un obiettivo piuttosto grande e positivo, hanno in mente di risolvere qualche problema serio. Noi abbiamo considerato questa liberalizzazione, sono molto spesso considerate necessarie, probabilmente l'ha fatto anche questo Governo, per strategie utili per uscire dalla recessione. Quindi, oltre alle indicazioni dell'antitrust e alle direttive europee, oggi con questa legge si vende una ricetta per uscire dalla crisi. Fa nulla se tutto questo articolato del DDL non sempre abbia basi solidi e determinate da questioni tecniche, ma legate alle grandi lobby.